Oggi a Cuore Denari torniamo a parlare di cuore. Lo spunto ce lo suggerisce una campagna che ci sta particolarmente a cuore. Si chiama Viva e ha come obiettivo quello di informare tutti i cittadini sull'importanza di conoscere e sapere eseguire le manovre che possono salvare la vita. In studio con noi è arrivato a trovarci il dottor Nicolo Grieco che è medico della centrale operativa e del risoccorso presso l'ospedale Niguarda Cagranda di Milano. Buongiorno. Buongiorno a voi. Benvenuto. Grazie. Allora dottore andiamo subito al tema che è un problema molto serio su cui si concentra la campagna viva. Ho dato due dati. Prima nel corso della trasmissione l'arresto cardiaco colpisce in Europa oltre 400.000 persone ogni anno, circa 60.000 in Italia. Insomma l'arresto cardiaco cosa succede? Con l'arresto cardiaco si ha un'improvvisa perdita della funzione del cuore che può, sappiamo, portare alla morte. Ma se si provvede ad intervenire con manovre di rianimazione cardiopolmonare corrette tempestive e se soprattutto si ha immediatamente a disposizione un defibrillatore, l'arresto cardiaco può regredire restituendo così la vita al paziente. Quindi la formazione di personale esperto e io aggiungo l'informazione ai cittadini possono fare la differenza. È su questo che si concentra la campagna viva. Esattamente, lei ha detto quasi tutto e è stata bravissima. Brava, mi misura la pressione gratis. Dopo, gratuita. Vedi anche a Deborah però. Certo, cosa posso far rimanere dietro? Che è una sportiva. Il presupposto nasce in realtà nel 2012 quando la comunità europea lancia a tutti gli stati membri una necessità di sensibilizzarsi che parte da un dato. Questo dato è che nel 70% dei casi in cui avviene un evento importante, una perdita di coscienza, una perdita improvvisa delle funzioni vitali, è presente qualcuno, è presente un'altra persona. Ma in realtà solo nel 15% di questi casi vengono messe in opera qualche manovra, anche molto semplice, per ridurre l'impatto che questo ha sulla vita delle persone. Allora questa discrepanza è importante e pesa poi come costo biologico sicuramente, ma anche sociale in realtà molto elevato, su tutta la comunità. Questa è la ragione da cui parte lo spunto della comunità europea e che chiede a tutti i council nazionali che si occupano di rianimazione cardiopolmonare di fare delle campagne di sensibilizzazione per la popolazione generale. Noi abbiamo iniziato nel 2013, ci è voluto qualche tempo tecnico per tutta l'Europa per mettersi d'accordo. Il 16 ottobre è la giornata che la comunità europea dedica, l'European Restart Day, cioè dedica a far ripartire il cuore dei cittadini europei e in Italia le iniziative durano una settimana e sono diffuse su tutto il territorio proprio per sensibilizzare sull'importanza del problema e sulla semplicità in realtà di una soluzione, sarebbe troppo bello, ma comunque di un modo per affrontarla. Ma dottor Greco, spesso l'attacco di cuore improvviso, a dirla tutta non è poi così improvviso. C'è uno studio americano che è stato condotto su un gruppo di 167 uomini di età compresa tra i 35 e i 65 anni, è evidenziato che in oltre il 50% dei casi le persone vittime di un attacco di cuore, lo possiamo chiamare così, così tutti ci capiamo bene, hanno avuto dei segnali d'allarme fino a un mese prima circa che accadesse il fattaccio. Allora, ancora una volta, lo ripetiamo sempre a cuore dei nari, l'informazione e la consapevolezza possono fare la differenza, è come a dire uomo avvisato, cuore salvato. Allora, vogliamo ricordare quali sono i sintomi a cui prestare attenzione e chi deve farlo in modo particolare? Tutti o una categoria precisa di persone? Allora, la risposta è sicuramente tutti, perché come questo studio che è uno studio complesso che è durato tanti anni perché analizzare bene questi pazienti richiede tanto tempo, ma lo studio dice che nel 50% dei casi ci sono dei segni. Allora, tutti sono l'altro 50%. In più, come voi fate ogni giorno, bisogna fare particolare attenzione a tutti quei segni che la prevenzione ci dice di tenere a mente. Per cui tutte quelle persone che hanno già avuto un sentore, una patologia, il colesterolo, la pressione, purtroppo l'obesità e la sedentarietà, che sono uno dei mali della nostra società attuale, o altre patologie che possono dare come degli allarmi, dei warning iniziali, devono essere tenute sotto controllo perché sono di per sé un rischio alla quella che si chiama la morte improvvisa, come è chiamata in questo studio, quindi al collasso improvviso alla cessazione di funzioni vitali. Quindi i sintomi quali possono essere? La mancanza di fiato, un dolore al petto, la fatica a fare le scale, quali sono, dottor Grieco? Non esageriamo per non essere eccessivi nel sopravvalutare, però sicuramente le aritmie sono un sintomo importante, le aritmie che perdurano durante l'attività sportiva o fuori dall'attività sportiva. Il dolore toracico sicuramente è un sintomo importante. E per quanto riguarda lo sport, che è uno dei nostri campi di interesse, sicuramente la necessità di allenarsi e quindi di avere un fiato che è capace, un organismo che risponde allo sport, è molto importante perché è, come ha detto lei benissimo prima, è come prendere una pillola. Lo sport è effettivamente una terapia. Però ha una sua posologia, d'accordo? Ha una sua posologia. Allora, se non ho capito male, io mi sono impegnata anche naturalmente nell'ascolto attento di tutte le informazioni che il dottore ci ha dato fino ad ora, abbiamo capito tutti i segnali che il nostro cuore ci dà per avvertirci del suo malessere. Però, dottor Greco, per conoscere invece i gesti che possono salvare il cuore di un altro, che cosa dobbiamo fare? Da dove cominciamo? Cominciamo dal fatto che è molto semplice e che tutti lo possono fare. Questo è un messaggio a cui tengo molto. Cosa dobbiamo fare? È facile. Quando vediamo una persona che improvvisamente perde i sensi, come si dice nel comune parlare, bisogna accertarsi che non sia uno svenimento. Allora, il primo gesto molto semplice è non avere paura, ma avvicinarsi, chiamare con decisione la persona e scuoterla, in modo da accertarsi che non ci siano le funzioni vitali. La seconda cosa che bisogna ricordarsi è che le nostre mani possono fare tanto, ma da soli non possiamo fare molto. E quindi è importante chiamare immediatamente qualcuno in aiuto, chiamare immediatamente il 118, che a Milano, lo dico, si chiama 112 da qualche tempo, così facciamo un'informazione completa. Sì, certo, fatto bene. E iperestendere il capo vuol dire sollevare il mento nella posizione come per annusare, si dice in termini tecnico. Perché questo permette di disostruire le vie aeree, la famosa, quello che si chiama il ribaltamento della lingua, che in realtà non è vero, ma è una caduta posteriore del muscolo di cui è fatta la lingua. E questo permette di mantenere facile le vie aeree. Dopodiché, se è disponibile un defibrillatore, procurarselo, porre le mani al centro del torace e comprimere 100 volte al minuto, con forza, almeno 4-5 centimetri di profondità sul torace. Per ricordarvelo, pensate a Stay In Alive, la famosa canzone che ha circa 110 battute al minuto, è un ottimo ritmo e ricorda facilmente la cosa. E noi la cerchiamo subito e con questa ripartiamo dopo. Dopo, dopo il GR. Eccoci qua, siamo tornate a Cuore Denari. Parliamo di una campagna che ci sta particolarmente a cuore, non a caso ce ne occupiamo appunto nella pagina del cuore. Si chiama Viva, più di 120 in 80 città diverse, organizzate per sensibilizzare tutti noi al tema della rianimazione cardiopolmonare. Ci aiuta oggi il dottor Grieco. Arrivano già tanti messaggi al 349-238-6666. Possiamo sentire anche la vostra voce se chiamate all'800-24-0024. Abbiamo Irene che ci chiama dalla provincia di Perugia. Buongiorno Irene e benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. La mia domanda è piuttosto semplice. Io ho un bambino nato con una malformazione cardiaca, quindi il tema mi tocca in modo particolare. va alla scuola materna. Io vorrei sapere se è obbligatorio il defibrillatore all'interno delle scuole e se c'è tra le insegnanti una magari preposta. Certo, del personale informato e preparato per l'utilizzo del defibrillatore. Giriamo subito la domanda al dottor Grieco, a cui naturalmente chiediamo di approfittare della domanda di Irene per raccontarci quali sono i luoghi in cui per legge c'è un defibrillatore, che cosa si deve fare. Sì, purtroppo, mi dispiace per la signora Irene, ma attualmente non vi è un obbligo di legge ad avere un defibrillatore nelle scuole. Sebbene mi permetto di ricordare all'inizio che il defibrillatore costa piuttosto poco. Quanto costa? Diciamo tra i 1000 e i 2000 euro, a seconda dei modelli e delle potenzialità. Le scuole in questo momento non godono di grandi ricchezze, però si può anche sollecitare i genitori, in casi specifici la cosa è assolutamente fattibile. Vi è un obbligo, o meglio vi sarà un obbligo, con l'applicazione della legge Valduzzi, con la fine di quest'anno e l'inizio dell'anno futuro, per le società sportive dilettantistiche di dotarsi di un defibrillatore. Perché ne parlo con le scuole? Ne parlo insieme alle scuole perché in realtà in Italia il 70% delle società sportive utilizzano impianti scolastici, le palestre delle scuole, piuttosto che gli spazi, i campi da calcio e quant'altro. E questo, se ben utilizzato, ci permette di cogliere due obiettivi con una sola azione, di avere le società sportive protette e di avere all'interno di un edificio scolastico, o comunque del suo territorio, un defibrillatore. Ciò non toglie che esistono corsi per tutto il personale delle scuole. Il Ministero è molto sensibile in questo e ha dato anche delle linee di indirizzo favorendo la diffusione di questo messaggio perché si possa insegnare alle maestre e ai genitori, per esempio di bambini con un problema, come nel caso di Irene, a intraprendere le prime azioni, anche senza bisogno di defibrillatore, che possono essere utili. E sono le azioni che il dottor Grieco, sollecitato da Deborah, ci ha spiegato prima del GR, da cui noi naturalmente faremo un taglietto per mettere sulle nostre pagine. Francesco ci scrive, lavoro in una palestra, vorrei imparare ad usare il defibrillatore, a chi mi posso rivolgere? Non esistono corsi appositi, ci scrive Francesco. In realtà, dottor Grieco, ci sono. In realtà esistono, Francesco, una buona notizia per lui. Questa è la settimana ideale per informarsene perché sul sito www.settimanaviva.it trova anche molti corsi che sono gratuiti in questa settimana per tutti gli operatori dello sport e delle scuole, come abbiamo detto prima. Ma questo poi continua durante l'anno e abitualmente ci sono dei centri di formazione che si dedicano a questo. Italian Association Council, che è un council italiano della Società Europea di Rianimazione, fa questo, cioè si dedica a formare le persone alla rianimazione. Diciamo a utilizzare un defibrillatore che di per sé è un dispositivo molto semplice, che fa tutto da solo, parla. Direi banale, semplice e fin troppo. Più facile di un cellulare. Indubbiamente. Il defibrillatore in Italia ha tre tasti. Un tasto per accenderlo, un tasto per caricare, diciamo così, lo shock e poi erogare, un tasto per erogare lo shock. Ma tutto questo è guidato da una voce. Ormai tutti i defibrillatori a disposizione del pubblico, che sono chiamati PAD, Public Access Defibrillator, al momento in cui si prendono fuori dalla teca o si apre il coperchio, danno delle istruzioni vocali che sono veramente a prova di chiunque. A presto.